Chi ha le prese con l'acqua negli scantinati e chi invece con il naso all'insù per ammirare il fenomeno dell'aurora boreale anche da Arezzo. Bizzarrie degli eventi meteo e astronomici delle scorze ore. È stata una nottata di lavoro per Vigili del Fuoco e Volontari VAB. La Val di Chiana a Retina è stata quella che ha subito maggiori danni e disagi per le copiose piogge delle scorze ore. In particolare la zona tra Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana. Acqua negli scantinati e torrenti in piena, molti gli interventi della VAB di Castiglion Fiorentino. Come vediamo in queste foto, 20 quelli invece dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti anche con idrovore e motopompe. Nella stessa giornata di notte, cieli italiani illuminati dall'aurora boreale, fenomeno visibile bene anche dall'Aretino. Tante le foto e le segnalazioni sulla chat di Arezzo Meteo, tutto merito di una tempesta solare che ha colpito il nostro pianeta. La tempesta di classe G4 che ha trasformato i cieli in una luce mista tra rossa e violacea. Un fenomeno rimasto visibile per diverso tempo, durante la notte.